Esercizi di riscaldamento Total Body, una sessione completa per riscaldare il corpo, prepararlo a sforzi intensi e preattivare la muscolatura. Iniziamo! Ok, iniziamo questo video riscaldamento, circonduzione del braccio destro, andiamo a lavorare solo sul braccio destro, movimento ampio, controllato, respirazione naso e bocca, 5, 4, 3, 2, 1, cambio lato, solo il braccio sinistro, vai, circonduzione in avanti, scaldiamo bene la spalla sinistra. Esercizio successivo, apertura braccia indietro, 3, 2, 1, apro un braccio e ruoto il tronco dallo stesso lato, alterno le braccia, prima braccio destro e ruoto a destra, poi braccio sinistro e ruoto a sinistra, respirazione, esercizio successivo, skip alto più sollevamento braccia, vai, skip alto più sollevamento braccia, scaldiamo sia la parte alta che la parte bassa, skip con le gambe, sollevamento delle braccia con la parte alta, scaldiamo tutto il corpo, ancora 3, 2, 1, skip incrociato più gomito ginocchio, vai, incrociamo, gomito ginocchio opposto, salgo bene in skip col ginocchio, respiro, esercizio successivo, distensione braccia avanti più rotazione, 3, 2, 1, distensione braccia avanti più rotazione, movimento in avanti, due distensioni e due rotazioni in avanti, scaldiamo bene tutta la parte alta, esercizio successivo, skip alto, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, skip alto, vai, salgo bene col ginocchio, lavoriamo tutta la parte bassa, attiviamo tutta la parte bassa del corpo, gambe, glutei, vai, esercizio successivo, slancio glutei su una gamba, 3, 2, 1, vai, solo la gamba sinistra, tocco la punta e salgo, varicentro in avanti, mani sui fianchi, solo la gamba sinistra e poi cambiamo dall'altra parte, 5, 4, 3, 2, 1, vai, slancio glutei, cambio lato, solo la gamba destra, appoggio la punta e slancio, gamba destra, respiro, mani sui fianchi, esercizio successivo, discesa frontale su gamba destra sinistra, 3, 2, 1, vai, scendo lungo la gamba destra e poi sinistra, controllo il movimento, vai, scaldiamo tutto il corpo, ancora qualche secondo, esercizio successivo, spostamento laterale, mano al piede opposto, 3, 2, 1, allargo di più le gambe, le punte dei piedi ruotate verso l'esterno, la schiena è dritta, scendo, mano piede opposto, tocco la punta, il movimento è controllato, scaldiamo bene gambe, interno coscia, glutei, ancora 3, 2, 1, cambio, v-step saltato, vai, movimento reattivo, saltello, 2 aperture e 2 chiusure saltando, respiro, esercizio successivo, slancio gamba in avanti alternato, tra 3, 2, 1, vai, salgo, tocco la punta, salgo, tocco la punta, alterno slancio gamba destra e sinistra, respiro, ancora qualche secondo, esercizio successivo, pugno incrociato, 3, 2, 1, vai, poi incrociato a destra e sinistra, addome contratto, faccio lavorare anche le gambe, il pugno a destra e a sinistra, lavoriamo su tutto il corpo, esercizio successivo, saltellata laterale, tra 3, 2, 1, saltellata laterale, vai, respirazione, piccoli saltelli, destra e sinistra, lavoriamo bene sulla respirazione, inspiro col naso, e espiro con la bocca, 10 secondi, esercizio successivo, skip alto più tocco sotto la coscia, 3, 2, 1, tocco sopra la testa e tocco sotto la coscia, sincronizzo bene il movimento, tocco sopra la testa e tocco sotto la coscia, vai, esercizio successivo, v-step più saltello indietro, tra 3, 2, 1, vai, apro apro, due saltelli indietro, ancora, apro apro e due saltelli indietro, saltelli piccoli, non perdiamo l'equilibrio, respiro, apro apro e due saltelli indietro, 3, 2, 1, step touch, ci spostiamo a destra e a sinistra, facciamo lavorare anche le braccia, testa dritta, sempre respirazione naso e bocca, esercizio successivo, slancio gamba in avanti alternato, tra 3, 2, 1, vai, slancio in avanti destro, slancio in avanti sinistro, tocco la punta, respiro, esercizio successivo, jumping jack, tra 5, 4, 3, 2, 1, vai, jumping jack, respirazione, salto sull'avampiede, mantengo il ritmo, testa dritta, esercizio successivo, calciata al gluteo, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, calciata al gluteo, ora talone al gluteo, solo gamba sinistra, attiviamo soltanto la gamba sinistra, 10 secondi e poi cambiamo gamba, vai, fai lavorare le braccia, 3, 2, 1, calciata al gluteo, cambia lato, talone al gluteo, solo gamba destra, molleggia con l'altra gamba, fai lavorare anche le braccia, respira, esercizio successivo, calciata saltellata, 3, 2, 1, calciata saltellata, vai, calciata saltellata, aumentiamo il ritmo, mantengo sempre la respirazione attiva, esercizio successivo, passo laterale più alzate, 5, 4, 3, 2, 1, passo laterale a destra e sinistra, più alzate a 90 gradi, gambe leggermente piegate, respiro, mantengo il ritmo, esercizio successivo, step touch più ginocchio su, 3, 2, 1, 2 step touch e 2 skip, step touch destro sinistro e ginocchio destro sinistro, vai, esercizio successivo salto sforbiciato, tra 3, 2, 1, cambio, salto sforbiciato, vai, lavora sulle braccia, sincronizza bene il movimento braccia e gambe, esercizio successivo step touch, tra 5, 4, 3, 2, 1, cambio, step touch, mi sposto a destra e sinistra, respirazione, sempre naso e bocca, esercizio successivo pugno frontale più calciata, 5, 4, 3, 2, 1, calciata destra e pugno sinistro, calciata sinistra e pugno destro, molleggia sulle ginocchia e spostati da un lato all'altro, esercizio successivo, to touch più sollevamento braccia, 5, 4, 3, 2, 1, vai, tocco le punte dei piedi a terra mentre sollevo le braccia, vai, ancora 10 secondi, esercizio successivo, to touch su mezzo squat, 5, 4, 3, 2, 1, mezzo squat e tocco le punte dei piedi a terra, prima punta destra e poi sinistra, respiro, mani sui fianchi, ancora 5, 4, 3, 2, 1, ok il tuo riscaldamento è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos! Ciao!